La Notte del Ricercatore, evento organizzato dall'Università della Calabria, che quest'anno è stato fissato per il 30 settembre, è un momento che coinvolge tutto l'Ateneo, ma soprattutto con solo del rapporto con il territorio e di cittadini dell'area urbana e non, ai quali viene presentata l'unica, l'Intoto, offerta formativa, risultati ottenuti attraverso la ricerca, ma non solo. Il programma degli eventi è vasto, non ci sono solo le attività didattiche, ma c'è anche lo spettacolo, lo sport ed il cinema, perché un campus come quello di Arcavacata offre anche possibilità di questo tipo. Noi non dimentichiamo sempre che noi siamo un campus universitario all'americana, quindi noi abbiamo 2500 alloggi per studenti, abbiamo un centro sportivo attivo con più di 3000 tesserate, abbiamo attività culturale dei nostri tre teatri, dell'anfiteatro, eccetera, enormi. Presto, spero, avremo anche queste due sale cinematografica, quindi siamo didattica fondamentalmente, siamo ricerca molto, facciamo una politica di trasferimento tecnologico, ma siamo anche molto altro, sport, cultura, ricreazione, eccetera.